Un'indagine complessa e meticolosa che ha visto la Polizia Locale in attività fin dal giugno dello scorso anno con un'azione congiunta e una grande attività di indagine. Credo di poter dire che abbiamo portato in un quartiere troppo spesso, oggetto di cronaca, una ventata di legalità di cui c'era bisogno da anni. Avevamo promesso che ci saremmo impegnati perché le segnalazioni anche da parte dei cittadini erano molte, abbiamo avviato il progetto Ambiente, abbiamo costruito un percorso che ha portato la Polizia Locale, il Lucro e i Problemi del Territorio, coordinati dalla Procura della Repubblica, dalla Direzione Distrettuale Antimafia, a un successo così significativo. Credo che sia un segno importante rispetto a quella attenzione al territorio, al rispetto della legalità di cui abbiamo tanto bisogno.